I lavoratori di Alba Service non mollano. Avevano annunciato manifestazioni a oltranza e così è stato. I dipendenti della società partecipata della provincia di Lecce anche ieri mattina sono dati appuntamento di fronte alla prefettura per rivendicare il diritto al lavoro e al salario. Dopo il mancato accordo sui 245 milioni di euro del governo che avrebbe dovuto salvare la società i 130 lavoratori a rischio licenziamento sono tornati a presidiare via 25 luglio bloccando di fatto la circolazione. Alcuni di loro si sono recati presso l'hotel Tiziano dove era in corso un convegno del sindacato Will sul tema del lavoro e delle pensioni presieduto dal segretario nazionale Carmelo Barbagallo. E oggi si è ripetuto lo stesso copione. Dalle prime ore del mattino i dipendenti sono tornati a presidiare con un sit-in l'ingresso del palazzo della prefettura. Il traffico in città è andato in tilt. L'unica novità emersa sulla vertenza è la convocazione per oggi alle ore 18 presso la prefettura di Lecce rivolta alle organizzazioni sindacali e ai deputati salentini incontro finalizzato a far conoscere agli onorevoli della provincia di Lecce la drammatica crisi occupazionale che ha investito il personale della società. Questa mattina invece si è tenuto un tavolo tecnico con i rappresentanti della provincia di Lecce e della regione Puglia a cui ha partecipato anche il commissario liquidatore della società Maurizio Spagnulo. Si è discusso sul parere negativo che la Corte dei Conti ha fornito all'amministrazione di Antonio Gabellone circa la possibilità da parte della provincia di anticipare i circa 2 milioni di euro che l'ente dovrebbe ricevere dal governo per la manutenzione di strade e scuole, servizi essenziali svolti proprio dal personale Alba Service. Intanto la situazione non si sblocca, tutto sembra fermo, prevale la rabbia e la disperazione. Nove mesi di stipendi arretrati e un futuro sempre più incerto per 130 lavoratori e altrettante famiglie. C'è anche un anarchico salentino tra le persone fermate dai carabinieri a seguito degli scontri avvenuti a Rovezzano in provincia di Firenze culminati con un lancio di bottiglie Molotov contro la caserma dei carabinieri. Alessio Landolfo, 28 anni di Leverano, è stato sorpreso che urinava in strada in via Carlo Alberto dalla Chiesa nei pressi di un centro sociale dove era in corso una festa. Attorno ai militari sono arrivate una cinquantina di persone scatenando il disordine. Al termine degli scontri, una volta riportata la calma, i carabinieri hanno arrestato per lesioni, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento tre anarchici tra cui il salentino. 16 feriti tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani. Nella mattinata successiva, attorno alle 5, si sarebbe consumata la vendetta del gruppo di anarchici con un ride alla caserma dei carabinieri e il lancio di quattro bottiglie incendiarie che per fortuna hanno provocato solo pochi danni e nessun ferito. Con due attesi appuntamenti, l'incontro con il presidente del CNR Massimo Inguscio e la Notte Bianca è entrato nel vivo a maglie il ricco programma di iniziative organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2016. Proprio oggi, venerdì 22 aprile, infatti ricorre quella che è ormai da tempo la più grande manifestazione ambientale del pianeta. L'iniziativa per onorare la Terra e promuovere la salvaguardia nasce dagli indirizzi della provincia di Lecce, in particolare del suo ultimo difensore civico, il senatore Giorgio De Giuseppe, che nel 2011 volle istituire la celebrazione della Giornata Mondiale della Terra anche nel Salento. Partendo da questo input, Comune di Maglie, Associazione Italia Nostra, Sezione Sud Salento e Aro 7, l'ambito raccolta ottimale, con il patrocino della provincia di Lecce e di altri enti e la collaborazione tra gli altri dei comuni di Cursi e Scorrano, hanno messo a punto un ricchissimo calendario di iniziative che ha preso il via il 16 aprile scorso e si concluderà domenica prossima 24 aprile. Questa mattina nel cinema moderno di Maglie il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Maglie per un confronto sul tema la ricerca scientifica e la tutela delle risorse naturali. Questa sera il secondo e ultimo appuntamento della giornata, la Notte Bianca per la Terra, piazzetta Foggiari a Maglie, sarà animata dagli stand allestiti da enti, associazioni e aziende, tra cui il Villaggio Verde. Saranno inoltre esposti i materiali didattici degli istituti scolastici che hanno partecipato all'iniziativa. Aperta fino a domani anche l'interessante mostra Eco Riciclo, rispettare, riciclare, riusare e ricreare. La settimana di eventi dedicati alla giornata mondiale della Terra si è snodata con mostre convegni, attività didattiche, incontri, workshop, conferenze, giornate ecologiche che hanno coinvolto cittadini, istituzioni, associazioni e scuole. Il programma si concluderà con due tappe finali, sabato 23 aprile nel comune di Cursi dove si terrà una raccolta di rifiuti ed un workshop e domenica 24 aprile nel comune di Scorrano anche qui con una giornata ecologica nel Parco dei Paduli. La giornata mondiale della Terra che si celebra oggi rappresenta un'occasione per riflettere tutti insieme su quanto il futuro del nostro pianeta dipenda anche dai nostri comportamenti e su quanto si può fare per proteggerlo e salvaguardarlo. Attraverso un'efficace opera di educazione civica possiamo spronare ciascun cittadino perché nelle piccole come nelle grandi cose ponga al centro del proprio comportamento il rispetto della natura. Sono queste le parole del presidente della provincia di Lecce Antonio Gabellone e del difensore civico Giorgio De Giuseppe. Tante le iniziative nei diversi comuni salentini. La giornata mondiale della Terra si è celebrata anche a Casarano nel Cineteatro Manzoni dove si è tenuta la tavola rotonda dal titolo Il futuro del pianeta è affidato all'uomo con le riflessioni sui temi dell'ambiente da parte degli studenti di alcuni istituti superiori. Subito dopo sono stati piantati degli alberi in piazza. Iniziative anche a Castro dove le classi della scuola elementare con i propri insegnanti hanno percorso alcuni vecchi viottoli provvedendo a ripurirli dai rifiuti. A Nardò l'istituto comprensivo Primo Polo in collaborazione con il Comune ha effettuato una visita guidata con i responsabili di legambiente nel vivaio Garden per far conoscere tutte le piante da fiore, da frutto, aromatiche e da orto. L'ambito territoriale di caccia della provincia di Lecce, Comitato di Gestione di Ruffano, ha organizzato nell'ambito del progetto Bosco Benecomune le giornate ecologiche di sensibilizzazione per ripulire dai rifiuti i boschi della provincia di Lecce coinvolgendo volontari appartenenti a tutte le associazioni venatori e ambientali e cittadini. Nel Comune di Sogliano l'assessorato all'ambiente ha organizzato la messa a dimora di circa 200 piante della macchia mediterranea a completamento dei lavori di restauro ambientale e pulizia del sottobosco della Pineta con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, studenti e cittadini. La liberazione di alcuni uccelli rapaci curati nel Museo di Storia Naturale di Calimera, attività didattiche e culturali all'aria aperta e mostre tematiche. A Taurisano visita guidata nelle aziende agricole alla riscoperta degli ambienti naturali, dei muretti a secco e dei prodotti dell'agricoltura locale. Il Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera propone un tuffo nella preistoria con la Sauronotte, il cielo e la terra 100 milioni di anni fa, escursione notturna alla ricerca dei dinosauri. Anche quest'anno infine la provincia di Lecce ha realizzato e diffuso un manifesto celebrativo ufficiale della giornata mondiale della terra con il disegno realizzato dal liceo artistico statale Nino della Notte di Poggiardo. San Pietro in Lama è in festa per la terza edizione del concorso internazionale di Arte Florando organizzato dall'associazione no profit Safia Eventi, ovvero dall'architetto Salvatore Coroneo e da Anna Maria Spedicato e Francesco Durante della Bottega del Fiore e Ivan Berghella titolare della Scuola Internazionale di Arte Floreale Ivan Berg di Montesilvano in provincia di Pescara. Dal 23 al 24 aprile ben 13 team provenienti dall'Italia e dall'estero che si sfideranno in tre prove. La contaminazione quest'anno l'arte floreale la rivolge ai manufatti e sebbene la linea di distinzione tra arte e artigianato sia spesso poco definito, in generale l'arte risponde ad una necessità di pura espressione come il design, mentre l'artigianato pur contenendo elementi artistici risponde ad una necessità di utilizzo definito. Sta di fatto che tra loro il minimo comune multiplo è mani che laboriosamente hanno trasformato un'idea personale o di richiesta in una creazione in 3D. I fioristi con semplici gesti, unendo fiori e fili d'erba, daranno vita a vere e proprie opere d'arte. Le squadre di fioristi in gara sono 13 e provengono dalla Lituania, dall'Estonia, Bielorussia, Italia, Danimarca, Polonia, Norvegia, Belgio e Grecia. Si comincia sabato 23 aprile con l'inaugurazione che aprirà la due giorni ricca di colori e profumi in cui i visitatori saranno inebriati da varie forme d'arte. Alle ore 10 il taglio del ramo, un gesto augurale che rappresenta il simbolo di nuova vita e nuovi germogli. Seguirà l'apertura del museo Caroli, Fondazione Memmo, dove le squadre di fioristi nazionali e internazionali si affronteranno a colpi di fiori, foglie e bacche nelle prime due prove assegnate. Il 24 aprile alle ore 9 inizia la terza prova. Da non perdere le rappresentazioni teatrali e di danza, estemporanee di moda, artisti di strada, street cocktail, bar e music live e i fuochi pirotecnici. E poi ancora degustazioni, tavole rotonde, osservazioni astronomiche, mostre, laboratori creativi, gare di gastronomi e di atletica e tanto altro. Il visitatore avrà l'imbarazzo della scelta. Le corti aperte saranno adornate con creazioni, installazioni e tanti fiori. Tutto questo contornato da una massiccia collaborazione attiva di scuole, associazioni, comuni ed enti che trasformeranno le vie del magico centro storico del comune salentino in un grande giardino sotto le stelle. Anche quest'anno le manifatture CNOS faranno da cornice dal 23 al 25 aprile ai 170 tattoo artist nazionali e internazionali, ospiti della terza edizione di Lecce Tattoo Fest. Durante la tre giorni artisti italiani, iberici, anglosassoni, russi, elvetici, scandinavi, ucraini, olandesi e nipponici saranno a disposizione degli appassionati per imprimere sulla loro pelle arte e sogni, sfidandosi in sfumature, ornamenti e cromie. Lecce Tattoo Fest è una piattaforma di scambi di idee tecniche molto importante per gli addetti ai lavori, ma al contempo è una festa colorata per semplici curiosi che oltre ad ammirare gli stand degli artisti dell'inchiostro sulla pelle possono godere di spettacoli di intrattenimento a 360 gradi per tutta la durata del festival. Per avere un'idea di quanto sia diffusa oggi la moda del tatuaggio è sufficiente dare un'occhiata ad uno studio americano che già nel 2004 pubblicava dati impressionanti. Su 500 intervistati tra i 18 e i 50 anni, il 24% del campione ha riferito di avere almeno un tatuaggio, che nella metà dei casi era stato fatto prima dei 18 anni. Anche in Italia è sempre crescente il numero di persone che desiderano farsi un tatuaggio, soprattutto tra i giovanissimi, come ha evidenziato uno studio condotto su un gruppo di 4.000 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Dei risultati emerge che il 60% dei ragazzi intervistati si sente insignificante e perciò cerca nel tatuaggio e nel piercing una motivazione estetica che migliori l'autostima. Gli appassionati di aghi e macchinette anche quest'anno ritroveranno Luca Natalini e le sue creature fantastiche, Massi 900 e le 50 sfumature di grigio, Joao Pinto con le sue linee di rottura e il nero profondo dei suoi tribal, i colori vivi e brillanti di Christian Restivo e Mario Giotto e le composizioni sofisticate di Missi Veleno, Giampiero Cavaliere e Stefania Bianchi, tanto per citarne solo alcuni. In occasione del festival ci sarà spazio per sfide all'ultima matita nel contest di disegno, bombolette piene di magia nel contest di street art ma anche competizioni di break dance, esibizioni di ginnastica ritmica, percorsi di parkour, danza del ventre, burlesque, crossfit e super jump. Quest'anno la manifestazione si impreziosisce di una nuova area esterna con spettacoli pomeridiani e concerti serali e degustazioni. Il filo conduttore che dall'anima all'evento è quello di tenere vivo il ricordo di Lori Vitale, tatuatrice scomparsa in età prematura a causa di una leucemia fulminante. Si accendono i motori del Rally Città di Casarano che puntualmente ogni anno si ripropone per far vivere agli appassionati due giornate di grande sport, spettacolo e adrenalina. L'edizione numero 23 di scena da domani fino a domenica è pronta a offrire anche quest'anno ampi contenuti tecnici e sportivi. Il plateau di iscritti esalta certamente gli appassionati della specialità ma non mancherà di farlo anche con chi delle corse su strada non ha molta dimestichezza. Domani in mattinata le verifiche amministrative tecniche seguite dallo skate down. In serata l'attesissima super prova spettacolo che aprirà di fatto la competizione. Tutto pronto dunque per questa classica manifestazione di inizio stagione che si preannuncia combattuta forse come non mai ricca di sfide di elevato livello e di numerosi equipaggi che vorranno iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro di questo appuntamento sportivo valido come prova d'apertura della Coppa Italia Rally Terza Zona e del campionato regionale di Basilicata, Molise e Puglia. E' finita 8 a 0 l'amichevole disputata ieri al Via del Mare tra il Lecce e la formazione del Gallipoli. Un test importante per mister Braglia in vista della prossima sfida domenica pomeriggio alle ore 15 contro la Paganese anche per valutare le condizioni di quei calciatori giallorossi poco impegnati precedentemente. Una chance per guadagnarsi una maglia per la prossima sfida di campionato, la terz'ultima giornata della regular season. Per il finale di stagione infatti è necessario il contributo di tutti, con un primo posto ormai svanito importante sarà ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play-off, questo per rendere più facile il cammino verso la tanto sognata Serie B. Il Lecce si è presentato in campo nella prima frazione con Bleve in porta, Alcibiade, Cosenza, Abruzzese in difesa, Beduschi, De Feudis, Losicco, Liviero sulla linea mediana, Surraco, Moscardelli e Dumbiai in attacco. Questi ultimi due autori di due reti. Nel secondo tempo Braglia ha testato Benassi tra i pali, Beduschi poi sostituito da Giglio, Camisa, Legittimo, Lepore, De Feudis richiamato poi per Carrozza, Papini, Vecei, Surraco sostituito da Losicco, Curiale e Caturano. Ed è stato proprio quest'ultimo il protagonista di giornata riuscendo a realizzare un po' poker di reti. Gli altri gol hanno portato la firma di Vecei e Curiale. Ancora a riposo Peruchini, Salvi e Freddi, difficile al momento poterli vedere in campo per il match contro gli azzurro stellati. Da registrare il faccia a faccia tra i giocatori, il direttore sportivo Trinchiera e lo stesso Braglia e gli ultra giunti sugli spalti dello stadio per caricare i giallorossi e spronarli a dare il massimo in queste ultime fasi del torneo. Con uno striscione emblematico che recitava di tirar fuori gli attributi e qualche coro nei confronti dei giocatori, i tifosi hanno chiesto a Capitan Papini e compagni di non regalare al popolo salentino l'ennesima delusione, ma di lottare tirando fuori grinta, carattere e cuore. Oggi il Lecce sosterrà una seduta di allenamento a porte chiuse a Martignano.